L'inchiesta su questo rigurgito del terrorismo è partita dopo l'arresto nei giorni scorsi a Roma del neo-brigatista Antonio Fosso. Antonio Fosso. Antonio Fosso. Dai andiamo alla sigla, dai! Cosa che cazzo che va sotto? 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 Dio porco! Cosa che cazzo che va sotto? Cosa che cazzo che va sotto? Dio 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 Porco! Cosa che cazzo che va sotto? Cosa che cazzo che va sotto? Cosa che cazzo che va sotto? Dio Porco! Dio Porca Madonna di Dio! Dio cane 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 D Cosa che cazzo che cazzo è? Dio cane! Papacolo! Dio cane! Papacolo! Dio cane! Papacolo! Dio cane! Papacolo! Dio cane! Madonna di dio cane! Mi tocca rifar tutto da capo!